Oggi ricorre la giornata internazionale per i bambini scomparsi. È un dovere di tutti proteggere i bambini, soprattutto quelli esposti ad elevato rischio di sfruttamento, tratta e condotte devianti. 3. Auspico che le autorità civili e religiose possano scuotere e sensibilizzare le conscienze per evitare l'indifferenza di fronte al disagio di bambini soli, sfruttati e allontanati dalle loro famiglie e dal loro contesto sociale, bambini che non possono crescere serenamente e guardare con speranza al futuro. Invito tutti alla preghiera, affinché ciascuno di essi sia restituito all'affetto dei propri cari. Grazie. 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 Grazie.